ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con i pokemon come potete vedere siamo arrivati a pratopoli quindi in off camera ho fatto tutto il giro per arrivare a pratopoli voglio per prima cosa curare i miei pokemon perché soprattutto cerino e stanchino dove sta eccolo qua il centro pokemon se non c'entra pokemon rimettiamo il cesto i pokemon stanchi vuoi far riposare la tua squadra yes e voglio subito sfidare il capo palestra voglio anche fermarmi un attimo al market voglio vedere che cosa hanno qui in questa perché vorrei qualche pozione cina che mi restituisse più il salute super pozione eccola qua restituisce tanto 61 mila euro a quanti posso conquistare a me ne compro 25 unità si grazie mille mi ha messo gli acquisti nella tasca one eternity later omar il distruttore la mia squadra di pokemon è stata temprata da bianchi acque burrascose affronteranno tutto quello che tiri loro e tracceranno giù non c'è dubbio che vinceremo noi forza iniziamo subito che vinca il migliore omar allora gira e gira d'ossi usa lui livello 27 dai staraptor scelgo te staraptor come stanno le cose devi far fuori tutti e tre sennò sono fottuto se avesse avuto dei pokemon come dice la guida dei pokemon tuono fotti ed erba che il pokemon d'erba non ne ho proprio nessuno avrei potuto far fuori i primi due facilmente anzi quasi tutti ahia toglie troppo poco toglie troppo poco dai guarda lui beh tecnicamente un po' quasi uguale proviamo con zuffa però mi indebolisco starapido però devo tentare ma toglie così poco eh vabbè niente qua mi devo studiare bene quando scontro i mi scontro con i capopalestra e allenare i pokemon se no non potrò mai imbatterli guardate no e qui questo non ce la faccio a far fuori tutti proviamo attacco d'ala vediamo che no e vabbè dai si mette pure a fa' ste cose si mette pure a fa' ste cose con la super pozione e quando li quando lo butto giù così me ne prendo una pure io perdo un turno pure io io riprovo con aereo assalto dai è quasi morto tira del drago aia ma mamma ma togli un botto eh attacco d'ala ok il primo è buttato giù ma sono in guai seri perché staraptor praticamente k o gloazel eh sì voglio cambiare pokemon chi potrei utilizzare proverai cerino ma penso che sia una pessima idea però buttiamolo nella mischia vediamo un po' che succede uno di floazel mandato in campo da omar capo palestra è un pokemon d'acqua pugno rapido vediamo che succede lo sapevo vediamo cosa potrei utilizzare bracere vediamo che succede eh ma di nuovo lui che attacca ma scusate toccava a me ora eh che facciamo così grazie che mi uccide se attacco lui per primo se sto attaccando sempre io per primo niente toglie troppo poco non è non è stata una buona idea cerino la vedo molto dura qui proverai il granito non è molto efficace eh ma ora devo vedere se mi attacchi sono efficaci quale uso rocciatomba rocciatomba ma perchè ah è una meno fallita ma perchè deve attaccare due volte usa rocciatomba vediamo che succede una merda praticamente però almeno a velocità lega tutto voglio troppo poco eh vabbè ma per me il cavolo che però che si rigenera questo eh e non solo può riattaccare i bui a me non lo fa fare però quando io utilizzo quando io utilizzo non è stata forse una superpozione dura però niente qui si mette molto male provo pacifiso ma niente qua qua perdo ma che posso usare attacco rapido non ha nemmeno mosse di tipo elettrico faccio riso mi sa che dovevo tenermi pikachu per indebolirli eh capò totalmente ma è livello 12 contro livello 30 richiamiamo staraptor vediamo un po' proviamo con aereo assalto oh oh shottato serena riceve 571 punti esperienza la prossima scelta di omar capo palestra sarà quag c'è shottato poi eh aveva già no però non mi aspettavo di ucciderlo quag sire però qui mi devo un po' rigenerare se no crepo allora borsa terapie super pozione 50 ps quindi va da 80 ps schianto nemico fallisce dai lotta ho solo 10 aereoassalti da poter utilizzare siamo il primo dai 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 ti manca l'ultimo pokemon dai oh buono però meno male dai dovrei farcela se continuo a meno che non si cura vai aereoassalto e vai ce l'ho fatta ce l'ho fatta grande staraptor mi ha salvato lui sale di livello a 37 però prossima volta per un capulesso devo prepararmi al meglio se avessi avuto un pokemon come dice la guida che consulto un pokemon elettro e un pokemon d'erba forti avrei vinto molto più facilmente sembra che la corrente mi abbia risucchiato ma mi sono divertito a lottare con te tieni te la sei proprio guadagnata jedi gamer riceve la medaglia acquitrino da omar con la medaglia acquitrino puoi usare la mossa mn scacciabruma quando non lotti è un premio speciale da parte mia per la tua fortissima squadra hai ottenuto mt55 jedi gamer mette mt55 nella tasca mtmn me ne contiene la mossa acqua di sale raddoppia il danno subito da obiettivi a cui è rimasta meno della metà dps utile per vincere nella lotta quindi per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye ciao